A 24 ore dalla notizia del pentimento del boss dei Casalesi, Antonio Iovine, un convegno sul tema delle mafie, le nuove forme di intelligence per il contrasto e sulla gestione dei beni confiscati, può essere una buona occasione per capire quanto sia reale la messa in ginocchio definitiva del potente clan casertano, rimpicciolito da arresti eccellenti e duri colpi al suo potere finanziario. Soprattutto se al tavolo poi dei relatori siede il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. Non è il pentimento di Iovine che segna la resta dei Casalesi, per la verità il clan di Casalesi nella dimensione criminale che abbiamo combattuto per 20 anni è già stato sconfitto da tempo con la cattura di Iovine e di Zagaria. Ora la collaborazione, l'inizio della collaborazione di Iovine è il segno che ha funzionato bene per tanti anni l'azione di contrasto e che anche i capi della camorra che sono detenuti a 41 bis forse cominciano a capire che è meglio collaborare con lo Stato che rimanere dove stanno. C'è il rischio di riorganizzazione secondo lei? Ma il rischio c'è sempre, c'è sempre il rischio. Se non cambiano le condizioni socio-economiche di un territorio infestato dalle mafie c'è sempre il rischio che anche le organizzazioni criminali sconfitte possano ritornare in forme magari diverse. Quindi non bisogna mai assolutamente perdere di vista il territorio, mai abbassare la guardia, mantenere sempre alta l'attenzione per prevenire ed eventualmente anche reprimere i fenomeni criminosi. A discutere dell'argomento anche il procuratore capo di Potenza Luigi Gai, il capo della direzione investigativa antimafia di Napoli Giuseppe Linares e quello della direzione distrettuale antimafia partenopea Cesare Sirignano. È un colpo importante che depone per un forte indebolimento dell'organizzazione casalese e che fa sperare anche peraltro in future prossime collaborazioni. Grazie. Grazie. Grazie.